salve a tutti ragazzi stefano del gruppo grp con dietro la città di radicofani ora vi spiego perché la città di radicofani perché il fine settimana scorso ho avuto modo di passare una mezza giornata in questo bellissimo paese dove c'è un ristorante che a me piace da morire dove c'è un parco che a me piace da morire e dove ci sono delle strade pulite e dei tetti che a me piacciono da morire ora vi spiego perché io ho notato con mia con mio stupore ma anche tanta soddisfazione che in questo paese non ci sono piccioni e non ci sono i tappeti di cacca nel pavimento ci sono delle strade talmente pulite che ci potresti mangiare la pizza sdraiati per terra da quanto sono pulite al contrario del mio paese specie qui in via di casoli e mattonato che ci sono dei tappeti con uno strato di due centimetri di cacche dei piccioni sembra la concimaia del paese in questo paese non ci sono cacche non ci sono piccioni qualcuno mi deve spiegare perché se qualcuno lo sa questo dilemma questo segreto questo questa cosa nascosta io non la conosco se qualcuno sa come mai questo paese è lucido pulito non ci sono né piccioni né cacche dei piccioni me lo dica perché io sono tanto curioso ragazzi ma parecchio curioso quindi e contattatemi su un messenger o su facebook dove vi pare se sapete qual è il motivo dell'argomento di cui sto parlando quindi città pulita senza piccioni e senza cacche lucida in confronto alla mia dove abito io che invece la sera bisogna lavare le scarpe perché abbiamo calpestato merde tutto il giorno ciao ragazzi un abbraccio